Benvenuti in un nuovo video, ho appena finito di girare una nuova challenge che è conclusa Ho mangiato giusto tre biscotti, adesso finisco di bere il mio latte però vado di là perché di qua fa freddo Perché i termosifoni, non ci sono i termosifoni in questa casa e quindi ti torno a casina mia E più tardi farò un'altra colazione perché sono appena le 7.43 e se tutto va bene verso le 10 Ci vado in palestra, devo aspettare mamma che torna e poi ha detto che mi accompagna in palestra perché fuori c'è un vento assurdo Quindi non mi conviene andare a piedi, me ne porta proprio Quindi adesso io vado a editare questo video perché alle 2-3 deve uscire Quindi vado a editare questo video e poi dopo facciamo colazione insieme Eccomi qui nella mia solita postazione e mi ha detto mamma che viene per le 10.30 a prendermi Quindi ho tempo, sono le 8, ho tempo fino alle 9, no fino alle 9 Perché poi devo fare colazione, mi devo preparare per le 10.20, 10.15 Devo essere pronta Dopo mentre esporto tutti i file che devo aspettare di un quarto d'ora Vi faccio vedere delle cose E anche un regalino che mi ha fatto una persona, vabbè un po' a tutti noi Però era più mirato da per me su quello che ci ha portato io così Eccoci qua, vi faccio vedere le cose, guardate quanto dura 42 minuti e 45 secondi Infatti questo non va bene Vabbè vuoi editare tutto, velocizzare come minimo Deve venire 25 minuti, massimo 30 minuti Ma penso che 20-25 minuti viene perché velocizzando tutte le parti Speriamo bene Mi è piaciuta molto questa challenge Io nel frattempo, visto che il video ancora non si carica per poi iniziare a editare Nel frattempo già mi sono cambiata, mi sono anche lavata Mi devo andare a mettere solo un po' di correttore ma lo metto dopo Io ogni mattina quando mi sveglio Mi piace mettermi a letto quando tipo non ho molte cose da fare E mettermi a guardare i nuovi arrivi sul sito del supplement È un'abitudine che ormai faccio ogni mattina e poi mi alzo e inizio la giornata Stamattina per tempo non sono riuscita a fare niente E adesso stavo qui che stavo guardando e vi devo far vedere le novità che sono uscite Che sto così Perché a breve io devo fare un ordine perché ho finito l'omega 3 e il multivitaminico E quindi sul supplement li rivendo quelli là di Prozis Ne approfitto e li prendo Ma vi devo far vedere queste novità E poi dopo devo farvi anche la storia su Instagram Come sempre che vi aggiorno di tutto La maglia gialla sono un po' in giallina Allora raga è uscito questo qui della Aspettate It's Pro Questa è la nocciola Questo invece Arachidi Vediamo vabbè queste solite cose Big D shot Ragazzi sapete dicono che queste proteine sono molto buone Perché io le prendevo ad un mio amico su Prozis E non so quante volte me le acquistate Ragazzi il prezzo è fenomenale Lui mi sbaglio le pagava o 40 euro o 35 euro Adesso non ricordo Qua altre cose Vediamo giù se c'è Omega 3 infatti lo devo prendere Aspettate Qui c'è qualche altra cosa Iperpasta penne Ok Poi questa è la novità della Max Protein Che è la torta in tazza E poi sono usciti anche questi nuovi sciroppi Sugar free Salted caramel Ma mocha No Mocha Vabbè comunque sono tipo questi sciroppi Io non li utilizzo Tantissimi tantissimi Però ragazzi sapete che io questa Max Questo marchio già l'ho visto Dove cavolo l'ho visto Comunque questo deve essere tipo un cioccolato Sì è un cioccolato Sì è il cioccolato Questo invece è il torrone Poi fatemi vedere qua Questa barretta io ho provato Quella lì alle carote Ed è molto molto buona Questa però è cookies and cream Panettone No raga guardate qui Sono degli snack questi qua Aspettate Sono tipo biscotti No no questi li devo provare Fatemi vedere a che gusti ci sono Sì sono tipo dei biscotti B.C.A No vabbè Fatemi vedere i gusti No io sono troppo eforica per queste cose Già so che Altra che solo omega 3 Noccio No frutti di bosco deve essere mio No anche questo Cocco che l'ha stato al cacao Cosa No vabbè è scioccata Adoro Miei 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 Io adoro troppo i biscotti Infatti raga la barretta che vi dicevo prima Questa è le carote E questa qui Ma raga è troppo buona Queste sono le nuove barrette da provare Una ragazza mi ha detto che sono spettacolari Questo qui invece è cioccolato crunchy Aspettate Questo invece è mirtilli rossi E cioccolato bianco È sempre un biscottone Da provare Questo qui Non mi è piaciuto Queste io le avevo provate Queste barrette ma non mi fanno impazzire Le one Qua c'è sicuramente un nuovo gusto Vabbè dopo lo apro Perché altrimenti torna indietro Questo qui invece Termo Devo vederlo un po' Tutto questo cioccolato Tante cose buone Tante cose nuove Cacao e noci Fatemi sapere se volete Che prenda un po' Tutta la linea E così proviamo Li proviamo insieme In un video Fatemi sapere qua sotto Che voi mi dite Io lo faccio Questi sono tipo Dei salatini Pomodoro e olive No io adoro Questo Cacao Questi chips Mi hanno detto che sono spettacolari Questo è il burro da rachidi Raga dovete prenderlo Ho fatto un video No queste le devo prendere Perché sono molto buone Questa invece che cos'è Penso che sia una granella E frutti di bosco Formaggio Questa è la barretta natalizia Quella lì che vi ho fatto vedere Che io ho preso Altre Ah raga Questo Madò Cacao e nocciola Ripino No vabbè deve essere mio Questa è l'altra barretta Questo è il nuovo Zero break Duo wafer Raga queste sono quelle che mi hanno inviato a me Per chi ha visto il video Cioè raga Questo combino un botto Guardate quanto costa 2,99 euro Cioè ma dove l'ho trovato Un costo di questo 2,99 euro Ah raga Un'altra cosa che devo prendere Sono questi fiocchi qui Perché una ragazza mi ha fatto vedere I fiocchi di MG nuovi E dentro ci sono proprio i pezzi Di cocce di cioccolato Quindi io posso fare i biscotti Senza aggiungerci le cocce di cioccolato Perché sta tutto qui Adoro Monster Questo che cos'è Sempre un biscotto alle noci Queste invece sono tipo Un toast con i semi di chia E questo invece È un'iper focaccia No devo troppo provarlo Devo metterci solo la musichetta 23 minuti e 35 Già si ragiona Batteria scarico Mio dio Sono quasi le 9 e mezza Mi devo muovere Ho ucciso anche un po' i termosifoni Perché la casa è fredda Che adesso metto a fare Un paio di toast Se li trovo Ovviamente Non trovo Volevo farlo direttamente qui Però vabbè Metto i toast in un piattino E li metto di là nel forno Io ho le mani congelate O perché stavo ferma Ad editare Comunque sono le 9 e mezza Il video Si sta esportando C'è un tipo mezz'oretta Quindi nel frattempo Io mi faccio colazione Che praticamente Io ho comprato un treppiedi E mi devo uccidere un braccio Quando poi posso usare il treppiedi Infatti adesso vado anche a prenderlo E la mia vita è un po' così Cerco sempre di incastrare sempre tutto Infatti per questo motivo Sono una trottola Comunque Io sto provando Ultimamente Questo qui Che è il Nutabato Whey Di Bulk Powder Allora ragazzi Sinceramente Per me Questo gusto qui È bocciato È cioccolato E ho biscotto Allora Io non so neanche Per rendervi l'idea Aspettate Sentite questo rumore Tipo Praticamente È proprio Per me È troppo 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 Granuloso Allora Io di questo gusto Ho le proteine Sembra che All'interno Ok Ci sono le proteine Sicuramente ci saranno quelle Perché è lo stesso gusto Però ragazzi I valori sono buoni Ma a me sembra proprio di bene Uno shaker di proteine Però che non si è shakerato bene Quindi rimangono tutti granuli Sta cosa a me Non mi fa impazzire Ovviamente Ho aggiunto tipo al pancake Ho aggiunto a marmellata Philadelphia Pane Non si sente Tosso Non si sente Però È brutto Perché io questa cosa ho notato Soprattutto quando tipo Vado a pulire il cucchiaino E sta cosa che sente troppo Granulosa Non mi piace Ok I valori sono buoni Però per me Questo gusto è bocciato Io ragazzi Faccio subito subito Colazione Che sono quasi le 10 E io per le 10 e 20 Devo essere pronta Devo comunque riordinare Perché non so se siete alle mie spalle Tengo va bene le bottiglie da posare Eccetera Devo anche mettermi giusto un po' di correttore Infatti metto solo correttore Fisso un po' di cipria Mi riordino bene Mi sistemo lo zaino Porto una manetta A mezzamani In una felpa Non porterò la canotta Perché raga Io ho troppo freddo E sicuramente in palestra fa freddo Anche allenandomi Perché molto spesso Stanno i finestroni aperti Quindi congelo E sinceramente no Perché ho un po' di dolorare Le spalle Infatti Lunedì Ho visto che mi sento Un po' tutta bloccata Ho un appuntamento Con la fisioterapista Che va bene Per la schiera e tutto Quindi adesso Io faccio colazione E sicuramente Ci vediamo più tardi In palestra Allenamento terminato Oggi sembrava L'uomo nero Ma qualche va troppo 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 freddo In palestra Quindi mi sono allenata Così Devo dire che anche Con la mia periodo Del mese Mi sono allenata bene Quindi Oggi ero io L'uomo nero Adesso si ferma A casa Mangerò Non lo so Ma sicuramente Qualcosa di super veloce Perché è già la luna E sto morendo Morendo di fame E devo pubblicare Il video Perché comunque Alle due Devo uscire Quindi corro Sopri da casa E se non sbaglio Mi ha fatto il riso Già Che l'aveva fatto Un po' in più Quindi mangerò Quello Vediamo poi Cosa metterci vicino Ecco che qua Io sono appena tornata A casa Spero che si vede Questa cosa Fuori fa un freddo Infatti È la prima volta Che mi sono allenata Con quella felpa Mai 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 successo Però faceva troppo Troppo freddo Io adesso cucino Sì mamma Comunque mi ha fatto Il riso Quindi ho un po' Di tagliata di petto Di pollo Dell'aia Quindi Ci metto un po' Di tagliata di petto Di pollo Ovviamente la riscaldo Perché è vero Che è già cotta Però va sempre riscaldata E in più ci aggiungo Dei pisellini dentro E amalgomo Tutti Vi faccio vedere Devo ancora caricare Il video Rappido Il video Si sta caricando Io Ho però finito Di mangiare Mamma mia Che buono Avevo proprio bisogno Del petto di pollo Era tipo Una settimana Che non mangiavo Petto di pollo Tra Natale Capodanno Eh sì Capodanno Ho mai soffuso Natale Vigilia Santo Stefano Challenge Un casino Poi penso Che mi addormenterò Un po' Oppure mi vedo Qualche film Perché Sento la stanchezza Poi Stavo anche in quella fase Del mese Scusate se traballo Ma anche col trepedi Un macello Quindi adesso Vado a farmi Uno shampoo E penso Che ci vediamo Più tardi Non so se esco Se vado a casa Di parenti Zì Non lo so Che faccio Comunque raga Cambio di programma La mia vita È sempre un cambio Di programma Abbiamo deciso Che visto che Mia sorella Stasera Neanche esce Di stare a casa Di mangiarci Una bella pizza E di vederci Un film Comunque raga Mi sono registrata Sulla Rai Adoro Ci sono tantissimi film Io ve lo consiglio Veramente Perché mi sono visto Pure la bella bestia Troppo bello Quindi stasera A casa Filmo il pizza No non vedo l'ora Film finito Appena finito di vedermi Il film Mi è venuta un po' di fame Quindi vi mangio Questo biscotto Protego Che è troppo Troppo buono Questo qui Insieme a burro da raggi Infatti Sono i 12 Che mi sono piaciuti Tanto Vi trovate Su il supplement Ve li faccio vedere Come sempre Giù nell'info box Trovate il mio Così sconto Che vi da Un 10% di sconto Aprite sempre L'info box Perché li trovate Di tutto Se lo riesco Ad aprire Eccolo qui Adesso vi mangio Questo qui Che è a caramello Eccolo qua Mi mangio Questa parte Di biscotto Che è rimasta Dall'ultimo video Questa è una gioia Dove vi faccio dire Come ci siamo Alla fine ridotte Per stasera Ho chiamato 10 pizzerie della zona Non sto scherzando Il sabato Nessuno consegna Cioè Ma fallite tutti Chiudete proprio la bancarella Che c'è ragà Ma è assurdo Di sabato sera Cioè Pure se uno mette Come ho detto io Un paio di ragazzi A lavorare Date pure il lavoro A dei ragazzi Cioè Ma che diavolo Cioè ragà Ma vi rendete conto Quante pizzerie Ho chiamato Questo è proprio lo schifo Ovviamente le applicazioni Zero Poi Se volevamo ordinare Volevamo ordinare Su un'applicazione Che c'è in zona da noi Ma sinceramente Due margherite 16 euro Ma tutto a posto Frate Infatti Vedete anche così Perché appena finite Di vedere Il primo episodio Di Cenerentola Nuovo Che No a cartone E proprio Quindi stasera Ci facciamo Petina Bacon e mais No Poi vediamo Pettate Ci facciamo Tipo pancake Con la nutella Qualcosa così Perché La camera è rimasta Proprio qui Domani No lunedì O domani Sera Voglio la pizza O lunedì Voglio la pizza E non ne voglio neanche una Ne voglio due Perché ce l'ho qui Quindi adesso Prepariamo un po' E poi vi faccio vedere Nel frattempo Mi collego sulla televisione Con il rai E ci vediamo A che film Era pedina light Con mia sorella Penso che si mette Il bacon Ma io penso Che mi metto L'affettato Tengo un altro po' Di petto di pollo Mi metto il petto di pollo Quello di oggi E poi con il mais Cioè raga Non ci posso pensare Aspettiamo che Stiamo preparando La pedina Ovviamente Mini aperitivo C'è la Nutella Mia sorella Vabbè Cioè questi sono troppo buoni Sono dei taralli Con le mandorle Ma è buono Sono troppo buoni Non li mangiavo da una vita Quindi mentre aspetto Che mia sorella Si muove Per preparare la pedina La tera Ho messo Per caricare il film Ovviamente abbiamo Una televisione Che si connette Ma il wifi Sulla televisione Fa veramente schifo Mamma è una gioia Come sempre Sto facendo questo Cuoco di petto di pollo E poi Sto riscaldando La piastra Per metterci la pedina E poi lì Ho visto che ci sono Dei funghi Con il mais Quindi è inutile Anche aprire La confezione di mais Lo smaltiamo Così dopo Lavo pure la pentola E niente Questa sarà La mia tristicina Però lì Si sta caricando Il film C'è una super approvata Molto buona Comunque Io già sto morendo Di sonno Bene La mia Era fatta E la Quella di natura Era fit Perché praticamente Aprendo il film Ci siamo resi conto Che c'era Anche un'altra pedina Che andava consumata Quindi ho preso Quella che era Un po' più grande Visto che avevo Comunque petto di pollo Cosi eccetera eccetera Quindi tra come Noi ci andiamo Da là Ci andiamo Nel lettino Quindi io vi auguro Una buona notte Io già sto morendo Di sonno E ci continuiamo A vedere il film In stanza Quindi io spero Che questo vlog Anche se è un po' pazzo Pieno di cambi Di programmi Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao